Ehi, tu che stai guardando questo video, avvicinati. Ascolta, molto spesso dubiti delle tue capacità. Nascondi le tue capacità con le idee di altri. Quando hai qualche idea, corri subito dalle persone a chiedere ma questa idea è buona oppure no? Perché non ti lasci andare e fai quello che vuoi fare? Io sono Pierluigi Avolio e sono un Talent Developer Specialist. Se vuoi esprimerti al meglio o vuoi incrementare il fatturato della tua azienda, non esitare a contattarli. Tutte le grandi personalità hanno raggiunto questa fantastica condizione. Hanno fiducia dentro di loro. Lo possono chiamare Dio, sentimento, cuore. Si tratta sempre di quella voce dentro di loro. E naturalmente questa voce interiore sarà sempre lì. Sarà sempre lì a ricordare qual è la strada da percorrere. Ma ti devi connettere a questa voce interiore. E lo puoi fare. Lo puoi fare solo con una mente calma e silenziosa.